a questo punto stiamo nel Cisnacco vogliamo vedere il cielo perché non sono nel Cisnacco come sono le macchine di Cisnacco come sono? ecco di qui ci sono, ci sono noi parliamo e oggi voglio salutare Paolo Paltes e se voi potete trovare anche sulle pagine di Cisnacco forza a poco e un'altra macchina Paolo Paltes Grazie